Ben trovati nell'angolo dello sport. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno che ha scosso un po' tutto l'ambiente sportivo. Danilo Iannascori, il presidente di Pescara Calcio a cinque, ha ritirato tutte le squadre dalle varie competizioni. Da pensare che la squadra giovanile, per esempio, stava vincendo per i play-off. La prima squadra di Serie A poteva lottare per altre situazioni. Ma perché questa decisione che ha suscitato molto scalpore? Perché l'ombra del calcio scommesse e gli atteggiamenti di vari ambienti, sempre ufficiali del calcio a cinque, hanno costretto il presidente Danilo Iannascori a dire basta. Dire basta in questo momento, in questa occasione, non è un segno di resa, ma una denuncia forte verso un ambiente che ha riservato a Iannascori dure esperienze ed amarezze, nonostante l'impegno che lui e il suo team hanno profuso in anni, ricchi di vittorie e di successi, non solo come successi tecnici, sportivi, ma anche organizzativi. Qui sì, quindi uno sportivo con la mentalità di Danilo Iannascori, con la sua cultura e la sua filosofia proprio sportiva, non poteva accettare questo tarlo del calcio scommesse all'interno della sua società. Non poteva assolutamente Danilo Iannascori lottare su due fronti, quello esterno che non gli perdonava i successi, come ho detto prima, sia organizzativi che tecnici guadagnati in questi 8-9 anni, e poi il fronte interno che è quello dei giocatori che scommettevano contro la Pescara Calcio a 5, andavano pure a riscuotere personalmente, stupidi, i premi vinti. Diciamo la verità, dinanzi a questi mostri dire basta non è, come detto prima, un arrendersi, ma una dimostrazione di forza e di coraggio. Due caratteristiche che saranno utilizzate, ha promesso il padrone, il presidente Danilo Iannascori, in nuove esperienze sportive. Mi pare che posso già dire o anticipare che gli impegni futuri di Iannascori e del suo team saranno nel mondo del basket o della pallavolo, ma tutto ciò sarà precisato in altra occasione quando saranno smaltite le delusioni e le profonde ingiustizie subite da Danilo Iannascori e dal suo team. Prima di chiudere vorrei ricordare intanto che domani sabato il Pescara gioca a Palermo, l'arbitro è Piscopo di Imperia, il precedente di Piscopo e con il Pescara Vercelli vincemmo in casa 3 a 1, una partita però dal risultato sembrerebbe chiuso, ma ci auguriamo arrivi una notizia positiva da Palermo. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare all'amico e collega e regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.